Ciao grandissimi, come state? È possibile guadagnare crypto giocando? Sì, abbiamo proprio nuovo nuovo un gioco Eternal Paradox disponibile sulla piattaforma Gala Games che è joinabile in maniera totalmente gratuita e che ha una finestra di due settimane dove possiamo giocare ed effettivamente guadagnare crypto. Vi basta entrare su Gala Games e scaricare la pick up per iOS oppure per Android. È possibile giocare anche il gioco su un emulatore, quindi direttamente da PC se preferite e infatti io vi farò vedere quella versione. C'è un playtest che ovviamente serve agli sviluppatori per capire un po' il gioco, come gira, i bug e via dicendo e ovviamente mettendo in palio dei soldi, mettendo in palio dei token insomma interni del gioco che hanno un valore monetario, chiaramente ci invogliano a giocare di più e quindi a testare di più il gioco. Che cosa è incluso in questo test? Abbiamo delle battaglie introduttive, abbiamo la possibilità di costruire edifici con il sistema di livelli e via dicendo, quindi tutta la nostra base, il nostro castello. Possiamo fare scouting fuori nelle zone esterne e combattere, fare esplorazione di siti, le missioni, challenger mode, creare le gilde e ovviamente il sistema di rank. Manca ovviamente ancora tanto, tanto, tanto. Per essere elegibili nella rank, ovvero per vincere il premio, quello che dovremmo fare è che una volta che avremo raggiunto insomma la zona della base, ci basta andare sulle opzioni, quindi sul nostro profilo in alta a sinistra, sulle opzioni in alta a destra e andare su Gala Account e collegare il nostro Gala Account al gioco, così non avremo più problemi. Qual è il metodo di guadagno? Bisogna piazzarsi nelle prime posizioni in quattro differenti rankings, ovvero il Combat Power, che avete più giocate, più fate upgrade, più avrete Combat Power, poi il Challenge Mode, la distruzione delle Shagram Legends e l'Outlaw Hunting, quindi sono tutti obiettivi da raggiungere che verranno premiati per le prime posizioni, diciamo che quelle più raggiungibili e fattibili sono quelle del Combat Power, ma vi dico subito che bisognerà giocare tanto, tanto, tanto. Infatti io non cercherò di vincere niente. Sarebbe stato carino magari distribuire le gemme a più persone dando meno premi, ecco, no? Facendo vincere un po' di meno in modo da invogliare più persone. Però se sei una persona che ha tempo per giocare, tempo e voglia, beh, la possibilità di guadagno c'è e come. Vi aggiornerò qui sul canale YouTube, ma soprattutto sul nostro Discord server, Discord Play2Earn Italia, quindi se ancora non sei dentro, qui sotto trovi il link nella descrizione, come il link per entrare in Gala Games e provare il gioco. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.